Sono Andrea Ferrini, coordinatore della Commissione Informatica e Telecomunicazioni. Quest'anno ci siamo occupati di varie tematiche che spaziano dall'intelligenza artificiale, cyber security, droni e con l'anno prossimo abbiamo intenzione di organizzare degli eventi, principalmente delle visite tecniche presso dei data center o delle altre strutture tipo stampanti, stampanti 3D, eventi su location particolari dove si possono apprezzare anche le tecnologie nuove come quella dei droni e ci auguriamo di affrontare il nuovo anno e le nuove sfide con il consolidato impegno che mettiamo ogni anno su questa disciplina.